A quasi 30 anni dal suo debutto, il classico del 1992, My Cousin Vinny, rimane una commedia legale senza tempo che non smette mai di far ridere. Con Marisa Tomei nei panni della vivace Mona Lisa Vito e Joe Pesci nel ruolo del brillante Vinny Gambini, il film ha consolidato il suo posto come una gemma comica. Tuttavia, al di là delle risate e del dramma in aula, si celano storie nascoste e imprevisti sorprendenti. Dalla scelta degli attori iniziali ai tagli delle sequenze e agli errori sul set, scopriremo una serie di segreti succulenti ed esclusivi che anche i fan più accaniti potrebbero non aver notato, oltre ad alcuni dettagli interessanti sul film. Preparatevi a essere sorpresi da quanto ancora non sapete su questo capolavoro comico legale. Iniziamo! Cosa si ottiene mescolando due studenti universitari innocenti, un'accusa di omicidio, un avvocato fuoriluogo e una fidanzata vivace? Il risultato è My Cousin Vinny, la divertente commedia americana uscita nelle sale il 13 marzo 1992. Diretta da Jonathan Lynn e prodotta da Lona e Paul Schiff, la pellicola vanta un cast eccezionale, tra cui Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa Tomei, Mitchell Whitfield, Lane Smith, Bruce McGill e il defunto Fred Gwynn nel suo ultimo ruolo. Distribuita dalla ventesima Century Fox, questo film iconico segue le disavventure di Bill Gambini e Stan Rothenstein, che si ritrovano in un incubo legale in Alabama dopo che una semplice visita a un negozio di alimentari va terribilmente male. Il rischio della scelta di Marisa Tomei Marisa Tomei è oggi un nome noto grazie al suo ruolo di Mona Lisa, la fidanzata vivace e affettuosa di Vinny Gambini in My Cousin Vinny. Ma nei primi anni 90, quando il film è uscito, non era ancora un'attrice molto conosciuta. Era apparsa solo in alcuni film minori e la casa di produzione temeva che non fosse abbastanza esperta per gestire un personaggio così complesso e divertente. Non erano sicuri se fosse in grado di farcela. Tuttavia, il regista Jonathan Lynn aveva un'opinione diversa. Aveva visto la sua performance nel film comico del 1991 Oscar, dove interpretava una cameriera vivace e intelligente. Era rimasto colpito dal suo tempismo comico e dalla sua carisma e pensava che fosse perfetta per il ruolo di Mona Lisa. Così, decise di rischiare e di ingaggiarla, nonostante i dubbi dello studio. E aveva ragione. Non appena girarono la scena d'apertura, dove Mona Lisa e Vinny arrivano in Alabama e lei dice a Pesci «Oh sì, ti amalgami bene!» Lynn sapeva di aver fatto la scelta giusta, come ha rivelato nel commento del DVD. Aveva trovato l'attrice ideale per interpretare l'indimenticabile Mona Lisa. Beechum County non esiste Sappiamo tutti che il film è stato girato in Alabama. Beh, non è del tutto preciso. In realtà è stato girato in Georgia. Le scene esterne sono state girate a Monticello, in Georgia. Potete vedere Vinny e Mona Lisa controllare le gomme vicino all'Usis Second Hand Store. E il tribunale dietro di loro è il Superior Court di Jasper County a Monticello. Abbiamo detto che Beechum County non è una contea dell'Alabama? Sì, è un nome inventato. Anche le riprese sono state effettuate in Georgia. E il sacco Suds è ancora a Monticello. Potete visitarlo. Anche la scena del carcere è stata girata in Georgia. Hanno utilizzato il Lee Arendale Correctional Institute ad alto. L'ispirazione del film. Potreste rimanere sorpresi nel sapere che la divertente commedia si basa su un incontro reale accaduto allo sceneggiatore Dale Launer all'inizio degli anni settanta. Launer, noto anche per aver scritto altri successi come Ruthless People e Dirty Rotten Scoundrels ha raccontato la storia di come gli è venuta l'idea per il film in un'intervista con Abnormal Use. Secondo Launer, incontrò un giovane che aveva appena sostenuto l'esame di avvocato e stava aspettando i risultati. Launer, curioso riguardo alla professione legale gli chiese cosa avrebbe fatto se avesse fallito l'esame. L'uomo rispose che semplicemente lo avrebbe ripetuto fino a superarlo. Launer allora chiese qual era il numero massimo di volte in cui qualcuno aveva fallito l'esame e poi era riuscito a superarlo. L'uomo disse di aver sentito parlare di qualcuno che aveva fallito l'esame 13 volte prima di riuscirci finalmente. Questa risposta incuriosì Launer e lo fece riflettere su che tipo di avvocato sarebbe stato quella persona. Pensò e se fossi accusato di un crimine e avessi chiaramente il peggiore avvocato del paese. Immaginò uno scenario in cui un giovane avvocato che aveva appena superato l'esame dopo diversi tentativi doveva difendere suo cugino accusato ingiustamente di omicidio in una piccola città del sud. Lo immaginò come un pesce fuor d'acqua alle prese con il conflitto culturale, i locali ostili e il sistema legale sconosciuto. Immaginò anche la fidanzata dell'avvocato una meccanica astuta e intelligente che lo aiutava a risolvere il caso grazie alla sua conoscenza delle auto. Questa era la premessa di My Cousin Vinny che l'owner scrisse come sceneggiatura e vendette alla ventesima a Century Fox. Il film è ampiamente considerato una delle migliori commedie legali di tutti i tempi e viene lodato per la sua precisa rappresentazione del processo legale. L'ispirazione per Vinny Vinny si ispira agli uomini del quartiere di Joe Pesci. Pesci era nato per interpretare Vinny, l'avvocato chiacchierone e divertente. Ha reso Vinny sia esagerato che riconoscibile attingendo ai suoi ricordi d'infanzia. Pesci è cresciuto nel New Jersey dove afferma che i personaggi simili a Vinny erano ovunque. Diceva di conoscere ragazzi che indossavano giacche di pelle in estate, guidavano auto appariscenti e riuscivano a cavarsela nei guai con le parole. Usò questi ragazzi come modelli per il personaggio di Vinny mescolando i loro tratti e stranezze per creare un personaggio unico e indimenticabile. La performance di Pesci fu così convincente che alcune persone pensarono che fosse un avvocato reale. Lo studio voleva tagliare Mona Lisa Vito. Immaginate My Cousin Vinny senza Mona Lisa Vito? Neanch'io. È la fidanzata di Vinny, parrucchiera disoccupata e appassionata di automobili, interpretata dalla straordinaria Marisa Tomei. Tuttavia, lo studio voleva eliminarla dal film. Per salvare Mona Lisa, lo sceneggiatore Dale Launer dovette scrivere una scena in cui si lamenta di essere trascurata. Odio fare ciò, perché non voleva che Mona Lisa sembrasse una tipica fidanzata rompiscatole. «Sai quei film dove il tipo è in missione e tu lo sostieni, ma la sua moglie, fidanzata o madre, si sente trascurata. E inizia a lamentarsi, e tu pensi «Zitta, signora!» Quelle scene sono così noiose e fastidiose, vuoi solo saltare avanti». Dale lo ha detto a Abnormal Muse. La scena del Biological Clock di Marisa Tomei non era nel primo copione. Una delle scene più memorabili di My Cousin Vinny quasi non è entrata nel montaggio finale. Si tratta della scena del Biological Clock in cui Mona Lisa dice a Vinny che vuole sposarsi e avere figli. Questa scena è stata aggiunta successivamente per evitare che il personaggio di Tomei venisse eliminato dallo studio. Lo sceneggiatore Dale Launer amava questa scena perché mostrava la vulnerabilità di Mona Lisa e l'ingenuità di Vinny, Robert De Niro. Era la prima scelta per Vinny. Riuscite a immaginare Robert De Niro nei panni di Vinny Gambini, l'avvocato chiacchierone e sagace di My Cousin Vinny? È difficile pensare a chiunque altro nel ruolo di Vinny Gambini. Eppure questo era il pensiero dello sceneggiatore Dale Launer quando scrisse il copione. Credeva che De Niro fosse perfetto per il ruolo dell'avvocato astuto e fuori posto che difende suo cugino e il suo amico in un processo per omicidio in una piccola città dell'Alabama. Tuttavia, il presidente dello studio aveva altre idee. Pensava che De Niro, noto per i suoi ruoli seri e drammatici dell'epoca, non fosse abbastanza divertente. Probabilmente non capiva l'umorismo nella famosa battuta di De Niro «You talking to me?» di Taxi Driver. Launer ha detto in un'intervista con Writer Unboxed che il presidente sembrava visibilmente a disagio e imbarazzato quando propose De Niro per il ruolo, comportandosi come se stesse facendo un favore a De Niro offrendogli la parte. Non sapeva che De Niro avrebbe poi interpretato molti ruoli comici, inclusi quelli in Meet the Parents, dove ha vestito i panni di un altro padre intimidatorio. Launer fece un viaggio nel sud per ricerca. Per catturare accuratamente la cultura e le usanze del sud nella sua sceneggiatura, Launer decise di fare un viaggio nel sud e vedere tutto con i suoi occhi. Secondo il suo profilo sul sito web, noleggiò un'auto a New Orleans e percorse il Mississippi, attraversò l'Alabama e scese lungo la Gulf Coast. Lungo il percorso incontrò molte cose che lo ispirarono a scrivere alcune delle scene più memorabili del film. Rimase bloccato nel fango, mangiò grizzi in ogni diner e sentì i gufi ululare nella notte. Incontrò anche alcuni personaggi pittoreschi, come lo sceriffo amichevole, il giudice ostile e il testimone esperto di automobili. Tutti questi elementi contribuirono alla comicità e all'autenticità del film, rendendolo un classico. La testimonianza di Mona Lisa Non era accurata Se siete appassionati di My Cousin Vinny, saprete che una delle scene più divertenti e iconiche è quella in cui Mona Lisa Vito, interpretata da Marisa Tomei, si presenta come testimone esperta. Illumina il tribunale con la sua conoscenza delle auto, appresa lavorando nel garage di suo padre, e dimostra che l'auto degli accusati non poteva essere quella della fuga, poiché aveva un tipo diverso di asse posteriore e segni di pneumatici. Aiuta Vinny a vincere il suo primo caso e a salvare suo cugino e il suo amico da una condanna ingiusta. Tuttavia, si scopre che la sua testimonianza non era completamente accurata. Mona Lisa afferma che negli anni Sessanta esistevano solo due auto con entrambi i tratti di positraction e sospensione posteriore indipendente e che una di esse era la Pontiac Tempest del milione novecentosessantatré. In realtà, c'era un'altra auto con queste caratteristiche. La Studebaker Avanti del mille novecentosessantaquattro. Lo sceneggiatore, Dale Launer, lo scoprì da un amico del liceo appassionato di auto che vide il film alla prima. Lo chiamò e gli parlò dell'errore. Launer rimase sorpreso, ma non se ne preoccupò. Disse che era un dettaglio minore che non influiva sulla trama o sull'umorismo della scena e fu contento che il suo amico avesse apprezzato il film, anche se era un pignolo. La scena dei Jutes fu ispirata da una conversazione reale. Una delle scene più divertenti e citate del film è quella in cui Vinnie e il giudice Haller hanno un malinteso esilarante riguardo alla parola Jutes. Vinnie, con il suo spiccato accento del New Jersey, dice di difendere due Jutes accusati di omicidio. Il giudice Haller, con il suo accento del Sud, gli chiede che cos'è un Jute. Vinnie, confuso, risponde cosa. Il giudice Haller ripete che cos'è un Jute e il dialogo continua fino a quando Vinnie si rende conto che il giudice sta chiedendo cosa sia un Juth, giovane. Allora chiarisce che intende due giovani. Ma questa scena non era nel copione. Era basata su una conversazione reale tra il regista Jonathan Lynn e Joe Pesci mentre preparavano il film. Pesci, proveniente dal New Jersey, disse qualcosa riguardo a due Jutes in processo. Lynn, dall'Inghilterra, chiese cosa. Pesci rispose cosa a sua volta. Lynn pensava che Pesci stesse dicendo cosa, come domanda, non come risposta. Chiese di nuovo che cos'è un Jute. Pesci rispose di nuovo cosa. Ebbero lo stesso malinteso che Vinnie e il giudice Haller ebbero nel film. Lynn trovò tutto ciò così divertente che decise di includerlo nel film, rendendolo una delle scene più iconiche e citabili della storia della commedia. Vinnie doveva essere dislessico. Vinnie Gambini è un avvocato brillante che vince il suo primo caso in My Cousin Vinnie, ma ammette anche di aver dovuto sostenere l'esame di avvocato sei volte prima di superarlo. Questo ci fa chiedere come può essere stato così difficile per lui superare il test. Beh, il copione originale aveva una spiegazione per questo. Doveva rivelare che Vinnie era dislessico e per questo aveva avuto difficoltà con l'esame. Quando il giudice gli chiede perché ci siano volute sei prove per superare l'esame, lui risponde sono un po' dislessico. Ma lo sceneggiatore, Dale Lohner, cambiò idea e rimosse questa parte dal copione finale. Il motivazione del cambiamento. Nella caratterizzazione di Vinnie Dale Lohner, decise di escludere il tema della dislessia per Vinnie perché Joe Pesci, che interpretava il personaggio, non riusciva a recitare come se fosse dislessico. Inoltre, Lohner non gradiva che ciò rendesse Vinnie apparire non molto sveglio. Parlando con Abnormal Muse, spiegò che voleva che il pubblico vedesse Vinnie come una persona intelligente, mentre la legge sembrava troppo complessa e noiosa per lui. Voleva che il pubblico formulasse le proprie ipotesi sul perché impiegasse così tanto tempo per superare l'esame di avvocato e poi rimanesse sorpreso dalla sua astuzia e intelligenza in aula. Le scene in prigione sono state girate in una prigione reale. Potresti pensare che le scene ambientate in prigione siano state filmate in uno studio o in una prigione finta. In realtà, sono state girate in una vera prigione a Gainesville, Georgia, e non in una qualsiasi, ma in una che aveva un braccio della morte proprio accanto al set. Ralph Macchio e Mitchell Whitfield che interpretano Bill e Stan, i ragazzi ingiustamente accusati di omicidio, non erano molto entusiasti di questo. Erano spaventati dal fatto che ci fossero veri criminali in isolamento e nel braccio della morte a pochi passi da loro. Erano sollevati di avere delle guardie carcerarie intorno, ma si sentivano comunque molto nervosi e a disagio. Probabilmente avrebbero voluto avere Vinny Gambini per fargli uscire di lì prima. La nomina all'Oscar Marisa Tomei dimostrò a tutti di essere la scelta perfetta per interpretare Mona Lisa Vito, la fidanzata vivace e intelligente di Vinny Gambini. La sua performance esilarante e brillante le valse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Tuttavia, quando scoprì di essere stata nominata per un Oscar, non si trovava in un luogo elegante o glamour. Stava dormendo sul divano di un'amica, molto incinta e pronta a partorire in qualsiasi momento. I suoi amici erano nella stanza a guardare la TV e sentirono l'annuncio delle nomination. Iniziarono a urlare e saltare di gioia. Tomei si svegliò dal pisolino e li vide. Pensò che la sua amica fosse entrata in travaglio e che dovesse portarla in ospedale. Non si rese conto che stavano festeggiando la sua nomination agli Oscar. Rimase scioccata e confusa, ma anche molto felice. Aveva appena ricevuto la miglior notizia della sua vita nel modo più inaspettato. Non solo Tomei fu nominata per un Oscar, ma vinse anche il premio come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo di Mona Lisa Vito in My Cousin Vinny. Tuttavia, subito dopo aver ricevuto la statuetta d'oro, iniziarono a circolare voci secondo cui non se lo meritasse. Alcuni sostenevano che avesse vinto per caso, perché il presentatore Jack Palance era ubriaco o sotto effetto di droghe e aveva letto il nome sbagliato dal teleprompter. Tuttavia, questa è una teoria del complotto ridicola e senza fondamento. L'Academy segue un protocollo rigoroso per evitare tali errori. Due ufficiali sono sempre in attesa dietro le quinte con le buste con i nomi corretti pronti a intervenire se qualcosa va storto. Non avrebbero lasciato che Palance commettesse un errore del genere. L'unica volta in cui fallirono fu nel 2017, quando Warren Betty e Faye Dunaway annunciarono La La Land come miglior film anziché il vero vincitore Moonlight. Questo fu un vero disastro, ma non aveva nulla a che fare con Tomei. Ha ottenuto l'Oscar in modo assolutamente legittimo. L'Oscar di pesci da Goodfellas avrebbe potuto fare un cameo Gio Pesci interpretò Vinny Gambini, l'avvocato astuto e divertente che vince il suo primo caso in My Cousin Vinny. Ma non ricevette una nomination all'Oscar per il suo ruolo, cosa che riteniamo un grave errore. Meriterebbe sicuramente un riconoscimento per la sua performance esilarante e brillante. Tuttavia vinse un Oscar per un altro ruolo e la statuetta quasi apparve nel film. La notte prima di girare la scena in cui si trova in prigione per disprezzo del tribunale, Pesci era agli Oscar per ritirare il premio per il suo ruolo in Goodfellas. Interpretava un gangster spietato e violento in quel film, un personaggio molto diverso da Vinny. Arrivò direttamente da Los Angeles sul set e aveva ancora l'Oscar in mano. Durante il primo Chuck tenne l'Oscar tra le braccia come se fosse un bambino. Questo significa che l'Oscar avrebbe potuto fare un cameo nel film come oggetto di scena o battuta. Ma il regista decise di tagliare la scena perché era troppo distraente e fuori luogo. Voleva che il pubblico si concentrasse sulla recitazione di Pesci non sul suo trofeo. Gli orologi saltano nel tempo. Se sei un osservatore attento potresti notare un errore di continuità nel film. Dopo che Vinny chiede più tempo per esaminare la testimonianza di Wilbur il giudice Haller gli dice che l'impiegato lo richiamerà dopo le tre e che ha una sospensione dell'esecuzione a meno che non riesca a vincere il caso nei prossimi 90 minuti. Questo implica che l'orario corrente è un'ora e trenta. Ma subito dopo la pausa l'orologio all'esterno del Dave's Barbecue segna le 12 e 55 e poco dopo segna le 4 e 25. Come è possibile? Questo è chiaramente un errore di continuità temporale. Gli orologi nel film non corrispondono al tempo reale. Vinny avrebbe perso il processo se avesse seguito l'orologio all'esterno del barbecue. Forse aveva un orologio magico che gli permetteva di tenere traccia del tempo reale. O forse è stato solo fortunato che il giudice non se ne accorgesse. Il personaggio di Mona Lisa è ispirato alle Jersey Girls in Francia. Il personaggio di Vinny non era l'unico ispirato a persone reali. Anche Mona Lisa si inserisce perfettamente nel cliché della Jersey Girl mostrato dai media, ma lo sceneggiatore Dale Loner non aveva incontrato nessuno del New Jersey fino a quando non fece un viaggio in Francia e incontrò un gruppo di donne del New Jersey durante un viaggio zaino in spalla. Rimase stupito dal modo in cui nuotavano con il trucco e i capelli intatti sembravano appena uscite da un salone. Fu colpito e ispirato da loro. Le usò come modello per Mona Lisa la fidanzata affettuosa e leale di Vinny Gambini dandole lo stesso atteggiamento accento e senso della moda. La trasformò in una Jersey Girl in Francia. La caduta della scacchiera fu accidentale. A volte le scene più divertenti di un film non sono pianificate. Succedono per caso. È ciò che accadde in My Cousin Vinny quando Vinny Gambini cercò di dire al giudice Haller il suo vero nome. Dice che è Gambini con una G non una C. Ma mentre lo dice rovescia accidentalmente la scacchiera del giudice facendo volare via i pezzi. Questo non era nel copione. Joe Pesci rovesciò davvero la scacchiera. Ma il regista Jonathan Lynn lo trovò esilarante e autentico. Decise di mantenere la scena nel film e divenne un momento comico classico. Il gufo Screech era un gufo reale. Ogni mattina Vinny e Mona Lisa vengono svegliati da maiali rumorosi, un fischietto a vapore e un gufo Screech. Secondo il regista Jonathan Lynn il gufo Screech non era un gufo finto. Era un gufo reale appena addomesticato. Dovevano nutrirlo con carne di manzo per farlo aprire il becco. Gli strilli furono aggiunti in studio successivamente ma la reazione del gufo era autentica. Non aveva paura della pistola di Vinny. È stato fatto in un solo Chuck. Nel commento del DVD Lynn ha detto abbiamo colto il jackpot con quel gufo Screech. La cravatta di Vinny è sempre un po' storta. Nel film Vinny Gambini indossa sempre un abito e una cravatta. Tuttavia se osservi attentamente noterai che la sua cravatta non è mai del tutto in ordine. Dopo che Vinny fa una buona osservazione in tribunale il procuratore lo elogia e gli parla di nuove prove. Ma la cravatta di Vinny è diversa da quella che indossava i nodi delle cravate di Vinny e del giudice continuano a cambiare. Forse hanno dovuto rifare la scena più volte o forse non riuscivano a legare bene le cravate. In ogni caso questi dettagli sono così minori che potrebbero passare inosservati perché sei troppo impegnato a ridere del film. Danny DeVito e Jim Belushi erano anche considerati per il ruolo di Vinny Robert DeNiro non è stato l'unico attore a cui è stato offerto il ruolo prima che fosse dato a pesci. Anche Danny DeVito e Jim Belushi sono stati considerati. Launer scartò DeVito perché Vinny doveva essere inizialmente un uomo temuto dalla mafia e DeVito con meno di cinque piedi di altezza non sembrava minaccioso. Tuttavia i dirigenti dello studio gli diedero a DeVito Piacque. Era quasi pronto ad accettare il ruolo ma poi si ritirò. La sceneggiatura passò a Jim Belushi ma anche lui rifiutò. In seguito disse nel programma radiofonico di Dan LeBatard che avrebbe voluto dire di sì. Tutti loro persero l'opportunità di essere Vinny ma Pesci Number accettò il ruolo e lo rese unico. Fu il miglior Vinny di sempre. L'auto incriminata compare durante la pausa del processo. C'è un indizio nel film che dimostra che Stan e Bill non sono colpevoli. Ma devi guardare attentamente per notarlo. È molto facile perderlo. Quando Vinny e Mona Lisa sono in un ristorante a parlare delle sue foto durante la pausa guarda sullo sfondo. Vedrai una cabriolet verde menta con il tetto bianco che passa. Ricordi cosa disse Mona Lisa in aula? Disse che l'auto che corrispondeva alle tracce degli pneumatici era una Pontiac Tempest verde menta del 1964 non una Buick Skylark del 1964 che Stan e Bill possedevano. E poi scopriamo che due uomini che sembravano loro furono catturati con una Pontiac Tempest verde rubata. Potrebbe essere l'auto del vero assassino? Lorraine Bracco era la prima scelta per il ruolo di Mona Lisa Marisa? Tomei è stata straordinaria nei panni di Mona Lisa Vito la fidanzata vivace e perspicace di Vinny Gambini in My Cousin Vinny. Era una fotografa un'esperta di auto e un'ex parrucchiera era il pacchetto completo ma non era la prima scelta del regista per il ruolo voleva Lorraine Bracco le fu offerto il ruolo ma lei rifiutò per motivi personali rinunciò alla possibilità di interpretare la adorabile e comica Mona Lisa così Marisa Tomei ottenne il ruolo e lo interpretò alla perfezione vinse un Oscar per la sua performance l'unico premio del film abbiamo detto che batte altre quattro attrici per il premio? Sì proprio così My Cousin Vinny è usato come strumento didattico per gli studenti di giurisprudenza potresti pensare che My Cousin Vinny sia solo una commedia ma è anche una rappresentazione realistica e accurata del sistema legale a differenza di molti altri film che incassano molto ma vengono criticati dagli esperti per errori My Cousin Vinny riceve molto rispetto dagli avvocati molti avvocati hanno detto che il film mostra ciò che succede realmente in aula e come essere un buon avvocato difensore alcuni professori di diritto lo usano persino nelle loro lezioni per insegnare agli studenti un giudice della Carolina del Sud Joseph Fletcher Anderson Junior scrisse un articolo intitolato 10 cose che ogni avvocato difensore può imparare da Vincent Laguardia Gambini affermò che il regista e lo sceneggiatore hanno fatto un grande servizio alla nostra professione creando uno strumento didattico meraviglioso e un grande film che ripristina la fiducia pubblica nel sistema giudiziario quale di queste rivelazioni e intuizioni su My Cousin Vinny hai trovato più intrigante? facci sapere nei commenti grazie per aver guardato per un video ancora più sorprendente clicca sul prossimo video che appare sullo schermo e appare sullo schermo